La quindicesima domenica del tempo ordinario ci presenta un brano evangelico molto noto, la parabola del buon samaritano. È collocata all'inizio del cammino di Gesù verso Gerusalemme ed è una parabola di persone in cammino. Come avevamo già visto per la parabola dei due debitori, incastonata dentro l'episodio dell'invito a pranzo di Simone e della donna peccatrice, così in questo caso la parabola è inserita in un dialogo fra Gesù e un dottore della legge che gli chiede che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli rivolge la controdomanda, lo sai sei dottore della legge, cosa c'è scritto? Come la interpreti la legge divina? E quell'uomo saggiamente risponde con i due precetti fondamentali, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso. Bene, vedi che le cose le sai e allora falle, mettile in pratica. Quell'uomo si rende conto di avere fatto una brutta figura, nel senso che ha fatto una domanda scontata, ma non era così semplice la risposta e allora precisa. Il problema è capire chi è il mio prossimo, cioè chi si merita di essere aiutato. La parola prossimo viene dal latino ed è un superlativo, vuol dire vicinissimo, è colui che mi sta vicino. Però nel linguaggio ebraico la terminologia era piuttosto quella dell'amico, del compagno, del collega. Non è questione semplicemente di essere compagni di scuola, colleghi di lavoro, vicini di casa per essere amici. Lo sappiamo bene. Non è detto che chi è molto vicino sia amico. Allora la domanda che il dottore della legge si fa è chi è mio amico? Chi si merita di essere amato? A questo proposito Gesù racconta la parabola che conosciamo bene, in cui presenta un uomo senza nessuna particolare connotazione vittima di briganti che lo spogliano, lo picchiano e lo abbandonano mezzo morto sulla strada. Poi nel racconto si presentano tre personaggi che passano su quella stessa strada, sono in cammino e incontrano l'uomo malcapitato. Un sacerdote lo vede e passa oltre dall'altra parte. Un levita vede e passa oltre. Un samaritano lo vede e si commosse, si sentì muovere le viscere e si prese cura di quell'uomo. Perché Gesù ha scelto questa tipologia di persone? Il sacerdote e il levita reagiscono in un modo, il samaritano in un modo diverso. Sacerdote e le vita appartengono al popolo di Israele, sono figure decisamente religiose. Il samaritano invece è un eretico, è uno straniero, è uno che il dottore della legge avrebbe giudicato un bastardo, uno fuori. Però dai fatti è costretto il dottore della legge ad ammettere il prossimo è stato lui. Gesù ha capovolto la prospettiva. La domanda non è chi mi è amico, ma piuttosto io di chi sono amico? Chi tratto come amico? Riesco a superare quello schema ideologico-religioso per andare incontro all'uomo in quanto tale? Se l'hai capito, va e fa anche tu lo stesso. È la conclusione di Gesù. Con insistenza c'è il verbo fare. Cosa devo fare? Va e fa anche tu così. Ma il problema è capire chi è il prossimo. Il fare dipende dall'essere. Essere prossimo mi permette di fare qualcosa per lui. Come prima lettura ti è proposto un brano dal libro del Deuteronomio, un classico testo della legge antica, in cui Mosè ripete a Israele la necessità di obbedire alla voce di Dio, osservare i suoi comandamenti perché questa parola è molto vicina, perché è indispensabile che tu la metta in pratica. in fondo il dottore della legge è messo di fronte a una tradizione antica. Gesù non contesta l'antica tradizione, la sottolinea. E così il Salmo 18, splendido inno alla legge, ci fa dire che la legge di Dio è perfetta, rinfranca l'anima, rende saggio il semplice, fa gioire il cuore, illumina gli occhi. La legge dà vita, i precetti del Signore fanno gioire il cuore, se vengono realizzati, non se si fermano ad una conoscenza teorica. Come seconda lettura in questa domenica inizia la lettera ai Colossesi e ci viene proposto il primo capitolo con il grande inno cristologico, cioè che presenta Gesù Cristo immagine del Dio invisibile, il primo genito di tutta la creazione. Egli che è il principio, il primo genito di quelli che risuscitano dai morti. Egli è la fonte della vita. All'origine non c'è la legge, c'è la grazia. Il principio è Gesù Cristo, in Lui abita la pienezza della divinità, Lui rende possibile eseguire la legge. E allora comprendiamo nella prospettiva antica dei padri della Chiesa che dietro alla figura del buon samaritano c'è il divino straniero, è lo stile di Gesù Cristo che nel suo viaggio si è fatto solidale con quel povero uomo che è l'umanità, mezza morta, abbandonata sulla strada. La religiosità ebraica non è stata in grado di curarla, la legge non basta. Il Cristo, si è fatto carico dell'umanità sofferente e l'ha portata nell'albergo. In greco il termine albergo è pandocheus, indica qualcosa di molto più bello che in italiano. È l'accoglienza di tutti, è l'ambiente che accoglie tutti, è una splendida immagine di Chiesa e l'onni accogliente, l'albergatore, è colui che prende cura del malato per conto del samaritano che continua il suo viaggio ma promette tornerò. Ho cominciato a pagarti e ti pagherò tutto il resto quando tornerò. Riconoscete la promessa del Cristo? Ha affidato a noi la cura dell'umanità che non è ancora del tutto guarita. L'opera principale l'ha fatta lui, l'ha cominciata, lui è il principio. A noi ogni accoglienti ha affidato il compito di continuare. Quando ripasserà pagherà tutto quello che abbiamo speso in più. Grazie a lui possiamo fare la legge.